come prima cosa per aprire la finestra bisogna togliere il copricerniera e stringere il perno verso il basso ok ora la finestra è smontata secondo passaggio per disegnare per fare i fori i fori vengono effettuati così a 15 cm verso il basso e poi uno in mezzo un'ultima cosa che verrà preparata qua in officina prima di essere posate sono le guide delle tapparelle noi di solito montiamo un angolare da 2 cm che incolleremo prima qua in officina e poi incolleremo contro il muro esterno in cantiere comunque vi farò vedere un'ultima cosa che vi farò vedere Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.